...con un lenzuolo e si vede solo un piede, oppure lei ha detto, qualcuno mi ha detto che c'è il corpo di una ragazza e poi ha precisato chi. Non ha detto chi gli ha riferito, ha detto che sembra che il corpo sia nell'armadio coperto con un lenzuolo e si vede solo un piede. Oh, allora, quando lei ha saputo, lei, come era morta Meredith? Che era morta Meredith e come è morta, come è morta. Quando gliel'ha detto? Veramente la saputo quando... ...quando... ...wenni si chiedono a dire se fosse Meredith. Philomena ha detto, oh no, Meredith. Quindi ho pensato che era Meredith. Ma non ho saputo. So, at the police station, when they were doing all the interrogating and all that thing, they told me later that it was Meredith. I don't remember the exact time they told me, but it was at the police station that I found. Veramente l'ha saputo quando era verso la cultura, più tardi. Lei non ha saputo il corpo di una ragazza e poi ha sentito anche Philomena dire, oh Dio Meredith. E come era stata uccisa? Quando l'ha saputo? Scusi, eh, scusi, faccio l'esempio. Poteva essere stata colpita con un colpo di pistola, con una pugnalata, con... avvelenata... Quando? Chi gliel'ha detto della polizia? Quando? Chi gliel'ha detto della polizia? No, però ha anche detto che non sa come è stata ammazzata. Questa è importante. Quindi lei non sa come è stata ammazzata. Non lo sapeva come era stata ammazzata. Che cosa le diceva la polizia? La polizia le ha detto che le è stato tagliato la gola. Chi gliel'ha detto della polizia? Un uomo, una donna. E quando gliel'ha detto? Quando? Quando ero nella polizia, ma non ricordo. Quando mi interagmato, mi ricordo che loro dicono che non conosciamo se sia un merito, ma... Non ricordo quando mi ha detto. All'altro che vedo è che ero detto nella polizia, perché non conosco cosa succede. Si ricorda solo che era alla questura che ha saputo come e... A che ora? A che ora? Dopo aver parlato, dopo essere stata sentita dalla questura, se lei è andata via, o aspettava, o ha aspettato. Dico io. La prima volta che sembra di essere stato lunghissimo per quattordici ore. Da interrogata, però. Sì. 14 ore? In periodo? No. Probabilmente in periodo. Per 6 ore. Ma ho stato in la questura per un molto lungo tempo. Sì. Sarà stato in zona più o meno 6 ore che è stata interrogata. Interrogata. Ma stare in questura sarà stato... Ma c'è stata... Lei stava nella sala d'attesa. Si, si. Insieme ad altri. E chi erano le altre persone? E compagni di casa? E poi altre persone? Sì. Arrivate dopo. Dopo i vicini di casa? Un po'. Dopo i vicini di casa? Un po'. Dopo i vicini di casa? Un po'. Dopo i vicini di casa? Sì. ma lei lei ha parlato con loro ha scambiato qualche confidenza si hanno detto tutti che sembra che il corpo di Meredith sia stato trovato in un armadio chi lo diceva? si ricorda di aver parlato con gli amici ma gli amici chi ci deve deve dirci il nome un nome anche solo il nome ma una certa Natalie di Londra non sa legare il nome a un vittima ma e lei che cosa diceva? che commenti faceva lei? lei ha raccontato quello che sapeva che è arrivata a casa e ha trovato la casa lei ha mai visto aveva visto in quei momenti la ferita di Meredith la ferita al collo di Meredith in quel momento in quel momento ecco ma ecco ma c'era qualcuno che lo diceva? ah qualcuno E se sì, quando? In che momento è morta Meredith? Cioè se la morte di Meredith è stata rapida o è stata invece prolungata? C'è stata un'agonia? Sì, la notte 2, quando all'avate in la sala, Nathalie ha visto a me, e quando Nathalie diceva che che sperava che Meredith sarebbero scusateate una cosa, ma che si sarebbe in un'epoca, e che sarebbe in un'epoca. E' questo tipo di uomini? Si, la polizia le aveva detto che era sbagliata la gola di Meredith Ma questo noi l'abbiamo saputo dopo, anche noi l'abbiamo saputo dopo Non subito Ma la polizia le aveva detto che era stato tagliato? Tagliato, scusi, io vorrei che tagliare il collo può avvenire in tanti modi Si possono colpire delle arterie vitali e possono non essere colpite Quindi una cosa è tagliare il collo, una cosa è come tagliarlo E quindi dar luogo ad una morte immediata, istantanea, una morte con un'agonia Lei la sera del 2, se è vero, secondo queste risultanze La sera del 2 sapeva che con quel genere di ferite Meredith aveva avuto un'agonia E la polizia non lo sapeva E la polizia non lo sapeva L'autopsia è stata fatta il 4, due giorni dopo Quello aveva sempre presa in sé che tagliare la gola è una morte lenta in generale Non è così, non necessariamente Comunque, comunque, chi le ha detto della lesione alla gola della polizia? Lei lo dica Quindi, quindi, gliel'ha detto quando lei è stata sentita Quindi, quando lei è stata interrogata Non prima No, prima di essere interrogata non sapeva come era Prima di essere interrogata Lei è stata interrogata alle 15.30 Fino a che ora è stata sentita? Fino a che ora è stata sentita? Fino a che ora è stata sentita? Era molto lungo Era, era da stolto, da stolto Fabio ha chiesto come è stata e questo le ha indicato il collo basta la ferita alla gola e basta grazie a tutti 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 grazie a tutti